e c'è tutti ragazzi benvenuti in questo video sono senix e oggi signori siamo tornati su football manager 2019 con il nostro parma siamo il 6 aprile 2021 andiamo a vedere come dove eravamo rimasti nell'ultimo episodio che non era andato benissimo in realtà abbiamo perso i due scontri diretti con le milanesi 1 a 0 in trasferta contro il milan 2 a 1 in casa contro l'inter partite sfortunate però c'è da dire non non meritavamo questo passivo secondo me poi abbiamo vinto astento proprio contro il chievo 1 a 0 in casa oggi andremo a vedere la sampdoria la spalla e il napole abbiamo due trasferte solo la samp è in casa vediamo dove si posizionano in classifica tra altro allora sampdoria e vabbè in fondo diciamo quasi salva sampdoria la spalla la spalla si sta lottando per un posto in europa nella per la coppa uefa diciamo la vecchia coppa uefa per l'europa league mentre il napoli è sempre il napoli ea 52 e ovviamente una vittoria contro il napoli sancirebbe il definitivo addio per i partenopei alla coppa campioni quindi staccheremo proprio il napoli di netto di netto quindi cerchiamo di andare a fare tre belle vittorie cerchiamo di chiudere questa stagione nel miglior modo possibile ricordo che l'unico obiettivo ormai rimasto ci è quello di proteggere il quarto posto perché lo scudetto non è più possibile coppa italiana siamo usciti in champions league siamo usciti quindi proteggiamo col cazzarolo di quarto posto e andiamo in champions anche nella prossima stagione e allora ecco le quote il parma è favorito contro la sampdoria secondo 90 minuti punto com siamo 1 80 il peroggio 3 la sampdoria 4 l'arbitro e maurizio mariani con 64 gialli un rosso lo stato di forma vabbè tutte entrambe le squadre fanno cagare ecco diciamo la traduciamo così e ci sono diversi infortunati in casa nostra adesso ci si è infortunato di acate si è infortunato politano mussasilla vabbè sì che silla c'è o non c'è insomma è la stessa cosa non che cambi molto e allora alla luce di questi infortuni anzi politano si è ripreso devo dire 96 per cento quindi si è ripreso di agate al selberg è squalificato di agate infortunato silla ancora e ancora in infermieria diciamo così non è al massimo vabbè sì tanto uguale e allora scendiamo in campo con cragno mandi calero papadopoulos silva pepe in c'è a centrocampo tonali ramsey politano trincao e ponce siamo contro la sampa la mentalità va bene è positiva ramsey lo vorrei spostare mezzala d'attacco perché voglio approfittare di quest'unica gara casalinga per spingere 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 martellare un po la sampdoria vediamo a che punto arriveremo tra l'altro sampdoria che ha preso duvan zapato ho visto aggressivo dobbiamo vincere senza problemi sicuramente parmi in avanti mandi pepe dove vai pepe dall'altro lato pepe grazie calero tonali attenzione tonali la larga sull'out di sinistra per jonathan silva che può avanzare la mette in mezzo ribattuto c'è ancora però tonali bravo sandrino ottimo grande quanto ti amo odegaard la riprendiamo però c'è jonathan silva con calma ragazzi calma becca appunto porca miseria odegaard pre brezischi pre ancora lui la da duvan zapata che però sbaglia c'è pepe pepe grande il lancio per politano matteo solo tu ci puoi salvare matteo trincao grandissima azione delle nostre due ali ma politano che la mette in mezzo ovviamente ponce si sposta assolutamente no non posso segnare io e andrei a rovinare le mie statistiche segna tu caro franzisco e infatti trincao va a fare l'uno a zero al trentesimo forse si trenta quattresimo ha segnato grande franzisco parliamo alla squadra appassionato c'è sempre margine per migliorare anche se l'ultima volta abbiamo scritto abbiamo detto sta cosa abbiamo perso poi 2 1 di rimonta con l'inter porca miseria ancora in avanti da rimessa laterale c'è pepe tonali ancora per pepe due registi pepino ramsey la può provare no c'è tonali no c'è trincao si trincao che cos'era non si è capito ha colpito un oggetto sconosciuto la palla non si è capito se era il portiere palo un muro invisibile non si sa aspetta siamo al settantesimo andiamo a fare due cambi nel frattempo leviamo politano che ancora risente dell'infortunio poi mettiamo direi cataldi dai non l'abbiamo mai messo il povero cataldino e poi e poi e poi e poi per ora restiamo così ottanta cinquesimo si andiamo a fare il cambio tattico per spezzare un po il ritmo partita mettiamo ma che ne so ma mettiamo leoncino stulac dai per sandrino tonali perfetto ragazzo prodigio centrocampista difensivo dai mancano due minuti manca niente un paio di secondi siamo oltre arbitro siamo oltre e calla guarda è arbitro non ha dieci secondi oltre ma perché sempre dobbiamo se sono tre sono tre vabbè aspetta arbitro però può restare stulac trincao arbitro non fischiare ramsey ci vese la prova dall'allargare va bene ma finisce va benissimo così finisce la vinciamo almeno questa meno male 1 a 0 appassionato ben fatto così carichiamo anche un po sti ragazzi che dopo le recenti sconfitte sono un po giù di morale sta per iniziare ok questo mandiamo sempre il vice che dice questo giardim chi vuole a sandro tonali sì ma di che squadra è a del monaco vabbè 80 milioni circa no 60 dai 60 70 però tutti i pen pen cash li voglio tutti senza rate senza claus le varie proprio tutti 60 cash ora è subito nel frattempo ottime notizie perché la juventus perde contro la rom quindi allunghiamo di tre punti sulla juve e poi il napoli purtroppo vince vabbè contro il benevento ci potrà stare l'inter vabbè inter e milano ormai sono irraggiungibili per noi quindi dobbiamo solo guardarci le spalle da napoli juventus e anche lazio potrebbe con un sussulto ritornare a farsi sotto per il quarto posto quindi sì napoli juventus e lazio dai dobbiamo tenere d'occhio il parma giocherà contro la spalla nel contro di serie addirittura la spalla è favorita questa conferma dell'ottimo momento dei ferraresi a 2 50 il pregio è 3 il parma è 2 63 l'arbitro è fabrizio pasqua lo stato di forma è identico tre vittorie due sconfitte per entrambe le squadre e vabbè vediamo ragazzi sarà una partita molto 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 difficile complicata la spalla è indietro si in classifica ma stanno attraversando un ottimo momento di forma poi siamo anche in trasferta perciò vediamo un po allora qua mettiamo papadopoulos si è ripreso perché era infortunato sì diciamo di sì un attimo perché lo cambiamo come difensore senza fronzoli lo stesso facciamo per knok difensore centrale di copertura benissimo poi per il resto ragazzi la formazione è quella classica neanche la leggo più perché ormai sono sempre i migliori quelli che giocano i nostri campioni soprattutto il nostro bomber non sta qua qua il disgraziato ezechiele maledetto lui allora energico e continuiamo così cerchiamo di continuare tu abitando ogni frega una mazza perfetto daje almeno un pareggino non sarebbe malissimo vediamo con chi giochiamo insieme a chi contro il napoli direttore quindi uno scontro proprio diretto tra i due campi allo stesso orario vediamo chievo napoli il chievo non sta è un po' più è semplice il la sfida per il napoli però vediamo attenzione maximovic c'è pellegrini in seguito da tre giocatori incredibile pellegrini ma ramsi mamma mia com'è va a rubare questo pallone di cattiveria knok papadopoulos attenzione ti prego cranio bravissimo cranio bravo bravo un applauso politano i bu del pubblico attenzione c'è però trincavino mamma mia che rasoiata proprio che diagonale di francisco ed è tornato se non ci fosse francisco mio ragazzi se non ci fosse tra francisco nostro insieme a politano veramente le due stelle della squadra cragno attenzione la spazza ma c'è lazzi adesso la va a prendere per paloschi mamma mia sfiora il palo paloschi fiora il palo paloschi alstenberg tonali trincavo in mezzo politano mamma che parato gomis proprio ci ha messo la manora ci ha messo ma ancora calcio spettacolo delle nostre due ali guardate un po' infatti gli unici a superare la sufficienza politano 7.1 e trincavo 8.1 diabì che tra l'altro se non sbaglio anche il capo cannoniere diabì schiattare l'attenzione e vabbè oh ma dove sta la difesa regà cioè paloschi proprio aveva tutto solo ma dove dove era la difesa posizionata scusatemi non si sa vabbè lazzi ancora la spalla in avanti in mezzo pepe trincavo vediamo se parte contro pieta c'è porca miseria perché proprio ponce alstenberg all'indietro cettonali pepe trincavo grandissimo il lancio di trincavo ancora per politano come si cercano i due ponce ti prego niente ma ponce ma neanche per sbaglio quello la va a prendere oh manco per sbaglio lazzi valverde dragomira attenzione di nuovo la spalla che si rifà sotto pellegrini guarda è diabì tutto solo tiro gol ma incredibile incredibile ma porca mi ma ci svegliamo un po di grinta maledizione a voi oh finisce il primo tempo regà aggressivissimo proprio mostratemi qualcosa di diverso perché non può essere la difesa schierata ogni volta sempre sono tutti soli questi basta un filtrante per metterci completamente in crisi incredibile alstenberg tonali valverde la va a prenderci e pepe che la raccoglie all'indietro ancora per tonali trincao trincao politano ma porca e ti pareva noi mai noi mai solo loro quando c'è un filtrante tutti soli loro gol noi fuori incredibile sempre sessantessimo intanto mostratemi sempre un po di grinta sessantacinquesimo vabbè andiamo a cambiare purtroppo non c'è il nostro giovane di ecate mettiamo politano togliamo politano mettiamo ciuffese ramsey lo togliamo anche mettiamo stulac che potrebbe essere pericoloso con i suoi calci di punizione e poi aghilare intanto spostiamo il terzino attacco ok perfetto le ali sono già attacco e andiamo a mettiamoci su molto offensiva stulac attenzione dalla bandierina vediamo si può c'è incredibile incredibile questo è clamoroso un errore un bug un un errore di codice ecco aspetta eh manco smetto di esultare perché secondo me già qua c'è subito il 3 a 2 guarda eh e invece no attenzione ciuffese bello fresco mamma mia che lanci per trincao ponce la doppietta no non so incredibile no infatti no sarebbe si rompe il gioco va in crash subito immediato una doppietta di ponce ciuffese rimettile in me mamma mia che gol di ciuffese no non è gol stavo scherzando bravo grazie var come sempre molto gentile ma poi morta va beh sarà intanto ancora la spalla adesso giustamente gol sbagliato gol subito qua ah beh giusto giusto allora ci sta allora ci sta allora il var allora ci sta dai uno a uno a una testa non fa male a nessuno nessuno è scontento nessuno si può lamentare ciuffese masiello aghilara partita che si è accesa all'improvviso pellegrini la spalla però è più protagonista porca ma sempre tutti soli sì che siamo ancora in ultra offensiva porca c'è misera palos che niente vabbè restiamo in ultra offensiva restiamo va mi sa che la scelta migliore oggi difesa veramente sbandata non si sapeva dove stavano massimo vi c'è ancora la spalla però che ci sta mettendo in grave difficoltà palos che è arrivato provo allo scavetto è arrivato qua totti alberto totti è arrivato qua e finisce raga purtroppo sulla che l'ultimissima azione niente vabbè figuriamoci se ponce avrebbe mai potuto fare un gol mai nella vita già una doppietta veramente sarebbero scesi gli alieni nello stadio aggressivo non mi soddisfa per niente risultato e purtroppo questo non ci mette in una buona luce alla sfida contro il napoli che tra l'altro è andato a vincere 2 a 1 adesso siamo a pari punti però il napoli ha una partita in più il napoli ha partita in più siamo a più 5 dalla juve potenzialmente siamo più 2 insomma ragazzi sarà da soffrire ecco proprio riassunto del discorso è che ci sarà da soffrire come sempre e allora si pensa ad una facile vittoria del napoli addirittura mazza o non ci danno speranza il napoli 1 e 50 il pareggio è 360 e noi siamo 5 e 50 proprio trattati come ultimi della classe però il napoli effettivamente ne ha vinte le ultime tre noi come sempre siamo molto altalenanti vabbè andiamo a vedere la formazione che sarà ragazzi siamo al crocevia alla partita madre di tutta la stagione visto come è andata a finire e allora spostiamo la mentalità su prudente comunque siamo al san paolo poi abbiamo cranio in porta mandi papadopolo scalero alstenberg pepe tonali ramsi trincao politano e ponce che sarà galvanizzato dal gol contro la spalla quindi oggi mi aspetto proprio una prestazione di ponce da manuale signori miei anche un pareggio raga andrebbe benissimo sarebbe oro colato stasera no no sì 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 stasera mi aspetto la vittoria benissimo almeno hanno reagito male ma hanno reagito vediamo un po' che succede alstenberg attenzione c'è pepe ancora alstenberg e ancora per pepe l'indietro pepe la mette in mezzo politano aspetta non voglio sultare gol gol sì gol gol subito 1 a 0 8 minuti ancora manca poi scusate io vorrei sapere perché politano era nella posizione di ponce quello pur di non segnare dice politano vai tu che io mi scanso ma incredibile cosa io non ho mai visto nella mia carriera football manageristica e calla vabbè questo no non è fallo basta inutile ce la fa vedere non è fatto lo dico io arbitro non è fallo non è fallo guarda eh punizione e te l'ho detto io ma perché non mi ascolti porca miseria guarda che ho esperienza attenzione però c'è cranio bravo cranio lunga lunghissima troppo forse david luis e addirittura gulam all'anno ancora l'indietro per david luis insigne insigne il folletto napoletano milic mamma mia che cane milic si mangia sì però applaude applaude bravo era contento e aspetta perché mo domanda di più il napoli sta spingendo ancora porca ma vabbè va fabio ruiz witzel toven attenzione trincao però riconquista palla pepe all'indietro calera guardate la pressione dei partenopei come ci spingono non riusciamo ad avanzare perché proprio ci stanno prestando da matti cranio la spazza via costretto trincao attenzione franzisco il numero 10 dove ponce ponce no ponce perché mai una ponce una volta una soddisfazione dammela perché fai sempre gol quando non serve porca miseria ponce ti odio ti odio meno vale guarda neanche t'ho pagato perché se t'avessi pagato proprio mi sarei licenziato io da football manager gulam ancora adesso il napoli vediamo se ci sarà il gol sbagliato gol subito calero no la spazza cevizel la va a raccogliere sulla mediana l'indietro per david luis da che se la prendiamo mamma mia no vabbè bene david luis ancora per vizel l'allarga per gulam guardate il parma come aspetta il napoli nella sua metà campo l'allargano però trovano sempre gli spazi attenzione all'anno ancora c'è vizel l'allarga ancora sulle fasce hanno troppo spazio c'è gulam che la mette in mezzo e appunto tutto facile per florian il maledetto che tra l'altro doveva venire da noi ma non è voluto venire sto stronzone e come sempre ragazzi football manager vuole che si faccia gol al 45esimo che poi è un problema un po di tutti i giochi di calcio è questo fatto del di segnare il gol all'ultimo secondo succede in fifa succede in peso succede a football manager non so se è proprio una questione di codice non lo so vabbè intanto però ci pareggiano e noi le prendiamo in quel posto come sempre bene attenzione 65esimo la lazio tra l'altro è passata anche in vantaggio porca paletta perché non l'abbiamo presa gulam in segne sull'out sinistra avanza ancora in segne vizel ancora per gulam come scambiano su quella fascia pifè sì pifè attenzione ponce bravissimo politano matteo guardalo matteo che cazzo non lo fai matteo perché perché mi volete così male allora ditelo non vi vogliamo più mister e io me ne vado allora mettiamo silla diamo qua una pazzia diamo fiducia a musa silla poi mettiamo attenzione io mi sento che chukvese potrebbe fare la differenza dopo questo brutto errore trincao non mi non mi piace via via trincao e poi se pepe mettiamo sul l'acca ok sul l'acca attenzione dal bambino rigore ti prego dove va oh è rigore arito dico io che rigore ma perché non mi ascoltano mai mamma mia rigore sì è rigore che cos'è rigore e te l'ho detto io te l'ho detto attenzione chi batte politano no poi trincao trincao ti prego non puoi spogliare trincao ti supplico sì lo fa trincao aspetta tutti fermi tutti fermi un attimo qua chukvese attaccante sterio di supporto trincao di supporto con mentalità molto difensiva non vi muovete da là proprio un pullman davanti alla porta dobbiamo posseggiare allora terzino di difesa non vi muovete immobili lui di difesa difesa mezzala no lui lo mettiamo 100 campi di quantità di supporto e basta vabbè solo silla là in attacco vabbè sti cazzi di silla tanto non fa una mazza a prescindere il san paolo ha mutolito 1 e 50 basta non faccio gli sboroni perché mo sicuro ci vanno a segnare un attimo non ho sbagliato scusa levami questo istruzioni squadra perdite di tempo sempre in qualsiasi momento e costantemente stili passaggi cortissimi ti prego 8 minuti 7 6 5 e calla insegne melek uh la sbagliata ti prego per di tempo cragno mori due minuti un minuto zero minuti un minuto siamo oltre 40 secondi oltre ma sempre si che vittoria incredibile oh santo dio questa era proprio importantissima di rigore di rapina ma ce la facciamo davvero fantasma perché scusate adesso non avevamo una minima speranza oh siamo il parma ragazzi siamo il parma porca miseria oh proprio questa vittoria ci dà ossigeno ci dà una un po' più di calma per non ci ci scrolla di dosso un po di quella pressione che avevamo a meno male vediamo subito la classifica ragazzi intanto siamo no andiamo un attimo avanti perché mercoledì sì non ci sono altre partite prima di questa beh strano insomma c'è chi si era 31 33 32 un solito casino questo cazzarola di calendario vabbè intanto però il calendario dice che il parma ea 32 punti a più tre dal napoli con una partita in più in meno addirittura in meno quindi siamo potenzialmente a più e 6 siamo potenzialmente a più 6 sì 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 più 6 mentre siamo potenzialmente anzi non siamo a più 4 dalla dalla lazio quindi importantissimo questa vittoria ragazzi anche perché anche perché adesso andremo a sfidare la lazio nello scontro diretto che proprio è fondamentale inutile dirlo però poi abbiamo benevento e palermo che sono comunque due partite abbastanza fattibili alla nostra portata video dove stanno vabbè la lazio lo sappiamo è qua benevento ok e diciottesimo e palermo e sedicesimo quindi due partite abbastanza semplici fra mille virgolette ovviamente per quanto possa essere semplice una partita di football manager detto questo ragazzi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale con la vi fossero piaciuti questi video vi piacessero le serie vari che ci sono nel canale andate nel mio pagino facebook e instagram che trovate in descrizione lasciato un bel like per questa squadra che sta affinendo quante partite ci mancano tra l'altro 1 2 3 4 altri due episodi e finiamo il campionato e noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video ciao ciao Grazie a tutti.